12 dietro in gara per il GSH sempre in 82, campionati italiani indoor e invernali lanci del 12 e 13 marzo ad Ancona. In totale sono 22 le medaglie conquistate dalla compagine ossolana, 11 d'oro, 4 d'argento e 7 di bronzo. A coronare il tutto, ben 4 nuovi record italiani firmati da Nicola Zani nei 60 metri e 200 metri T33 e da Riccardo Bagaini nei 200 metri e 400 metri T47 con gare che hanno regalato vero e proprio spettacolo. T47 con gare che hanno regalato vero e proprio spettacolo. T47 con gare che ha già fatto parlare di sé, ha già catturato l'attenzione dei tecnici nazionali della Fistir. Sono veramente buone le sensazioni che ha lasciato questo campionato italiano e fanno ben sperare per la stagione outdoor che sta per iniziare, stagione che avrà anche un appuntamento allo stadio Boroli, pista di atetica di Angelo Petrulli di Gravelona Toce il 21 di maggio con la gara territoriale dei campionati di società. Ringraziamo come sempre tutti i nostri tecnici e i volontari che hanno permesso ai nostri attenti di gareggiare al meglio delle loro possibilità.